A Potenza è deceduto in mattinata Bonaventura Possiglione, a stroncarlo una malattia scoperta non pochi mesi addietro. Eclettico imprenditore, editore e giornalista da anni, voce libera della Basilicata, da Radio Potenza Centrale a Telecento, per decenni è stato protagonista di veri e propri Tormentoni via Etere, impegnato anche in politica con il movimento. La Farfalla è stato anche candidato alla guida della regione e della provincia con discreti risultati, soprattutto i potentieni lo ricordano per le battaglie civili e le interviste per strada ai cittadini. Da qualche anno si era un po' ecclissato per favorire l'ascesa politico-imprenditoriale del figlio Giuseppe, divenuto anche presidente del Potenza Calcio prima di venderlo dopo diversi problemi giudiziari. Nino era conosciuto con questo nome, ha rappresentato uno degli antesignani di editoria e giornalismo che dialogano tramite la radio con gli ascoltatori. L'ultimo programma presentato alla sua emittente era in prima mattinata e garantiva il dibattito in quella che il Tormentone definisce una potenza di radio.